Un derby non è mai una partita uguale alle altre, non lo è per le tifoserie, non lo è per le società, non lo è per le squadre stesse. Pertanto vincere o perdere un derby non è come vincere o perdere una partita qualsiasi. Lo sanno bene Forlì e Ravenna perché si sono trovate entrambe in queste due situazioni, una all'andata e una al ritorno. Chi ha vinto ovviamente trae una spinta maggiore da questo successo, chi ha perso deve affrontare una situazione resa forse ancora più problematica dal risultato. Ebbene noi del derby parleremo tantissimo delle sue conseguenze e di come è stato sul campo. Lo faremo in questa puntata speciale di Panorama Basket. A tra poco. Move This girl, this beautiful girl With eyes the size of the ocean Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dire che è colei che aspettate tutti i martedì e che non cambiereste mai nemmeno per un milione, come dicono i Bundabash, ma neanch'io la cambierai per un milione, è la nostra Francesca Piccari. Ciao Francesca, ben ritrovata. Ciao Enrico, sempre troppo gentile te. Grazie e ben ritrovati a voi questa sera. Oh, allora dicevamo puntata particolare, oggi siamo un po' limitati nelle presenze in studio, ma il che non vuol dire che sia una puntata meno ricca di contenuti, vero Francesca? Assolutamente no, anzi pochi ma buoni come dicono, vero? Quindi noi abbiamo due ospiti davvero d'eccezione questa sera, partendo dal primo. Beh, è arrivato direttamente dall'America per infuocare i cuori dei tifosi della pallacanestro Forlì e dopo il suo esordio del derby di domenica troviamo qui con noi questa sera Dane Di Liegro. Ciao Dane, bentornato. Grazie, grazie. Come stai? Abbastanza bene. Oh, ottimo, oggi parla anche italiano, quindi è fantastico. Siede però accanto a lui il direttore generale del basket Ravenna, Julio Trovato. Buonasera e ben ritrovato. Buonasera. E noi Julio ti ringraziamo per essere qui questa sera perché sappiamo che Ravenna in questo momento sta attraversando un periodo particolarmente difficile e con te aiuteremo anche i tifosi a capire come sta gestendo la squadra a questo periodo e speriamo che vada sempre meglio, vero Enrico? Assolutamente sì che possa risollevarsi da questo periodo delicato così come ha fatto Forlì nel derby, però non ci fermiamo qui, eh? Assolutamente no, perché avremo anche un collegamento telefonico con un volto nuovo della Romagna perché è periodo questo di acquisti. Sto parlando di Giorgio Sgobba, l'ala dei raggi solari Sfaenza e niente, lo andremo a conoscere un po' meglio e vi invitiamo soprattutto a farci domande tramite il nostro numero WhatsApp da farli poi direttamente durante il nostro collegamento, vero Enrico? Esattamente, ricordiamolo Francesca qual è il numero a cui tutti voi potete inviarci tante domande ai nostri ospiti e anche a Giorgio Sgobba, noi gliele sottoporremo. Infatti il numero è sempre lo stesso, ormai dovreste averlo salvato, 334-769-2087 per inviarci le vostre domande come messaggi WhatsApp, mi raccomando. E voi che avete il telefonino sempre in mano non dovete soltanto andare su WhatsApp ma andare anche su Instagram perché cosa trovate ovviamente sul nostro profilo? Beh, troverete i nostri sondaggi ai quali non mancare mai. Questa settimana vi poniamo una domanda in merito a Ravenna. Ravenna è chiamata a dover rifare un altro derby proprio questo weekend e a proposito di questo vi chiediamo semplicemente secondo derby consecutivo per Ravenna che domenica ospita Imola. Chi delle due uscirà vincitrice dalla sfida? Esatto, quindi pronosticate già adesso, poi lo farete tutta la settimana, anzi a partire da venerdì con la nostra consueta schedina in cui lì darete anche lo scarto a favore di Ravenna o a favore di Imola che per voi sarà quello definitivo. Però per adesso ditete già chi vedete favorito in questo derby che si giocherà al Pala d'Andrea domenica. Bene Francesca, allora andiamo un po' a riassumere quello che è successo sui campi. Andiamo ovviamente dunque a dare una scorsa alle partite che si sono giocate sia in Serie A2 che in Serie B. Si Enrico, appena sei le partite giocate in Serie A2 nell'attesa dei posticipi di Iesi con Roseto e Mantua con Bologna. Vincono tutte le squadre di testa a parte Treviso che paga la voglia di riscatto di Verona. Bene Monte Granaro a Piacenza e benissimo Forlì che esce dal periodo nero facendo suo un derby a senso unico con Ravenna. In coda continua la crisi di Cento battuta in casa da Cagliari. In Serie B i Tigers piegano solo nell'ultima frazione la resistenza di Desio ma la loro è una vittoria preziosa che gli permette di restare in vetta assieme a Padova. Dietro infatti spingono tutte le migliori compresa Faenza che grazie anche al positivo esordio di Sgobba si riscatta ad Olginate. Perde invece Lugo con Cremona e così resta penultima in classifica. Esatto, questa è la classifica che state appunto vedendo del campionato cadetto e insomma potete notare ancora come ci sia un grande raggruppamento delle squadre diciamo nelle prime sei o sette posizioni. Però l'ho accennato prima Francesca parlando con i tre spettatori a casa la schedina che ritroverete venerdì ebbene la schedina che invece avete trovato questa settimana che vi dà diritto a vincere i primi succulenti e insomma prima di tutto diciamo chi ha vinto poi chi ha vinto gli stuzzicheremo il palato facendo sapere che cosa ha vinto. Sì Enrico il vincitore questa settimana lo conosciamo anche vero Enrico? Ecco in particolar modo tu lo conosci perché parliamo di Valerio Roila che ha vinto con 72 punti però sono stati molto bravi anche gli altri in particolar modo Alberto Sanmarini con 62 punti che è secondo e Andrea Babini con 59 punti che è terzo ma allora caro Valerio noi adesso ti presentiamo il premio ma tu già lo sai perché ecco potrai scegliere se prendere salsicce o hamburger e poi una bella bottiglia di vino e un simpatico porta chiavi dei nostri amici Marco e Vito la macelleria e gastronomia che trovate a Forlì in via Carossa 58A e da loro andare a scegliere le carni di migliore qualità è davvero semplice perché vi sapranno consigliare assolutamente nella scelta ma soprattutto oltre a carne tantissimi altri prodotti come vini, come formaggi e tantissimo altro. Esattamente Francesca ti ringrazio Bene Valerio mandaci via Whatsapp la tua mail e noi ti consegneremo via mail appunto il buono per riterare il tuo premio ma adesso andiamo subito a parlare del derby e lo facciamo ovviamente parlando da prima con chi il derby l'ha fatto suo ovvero sia con Dane Dane insomma mentre scorrono le immagini della partita e vi ricordo a voi a casa di stare a guardarci fino alla fine perché abbiamo preparato una clip con tutte le azioni più spettacolari che unisce basket e musica e sarà la nostra sigla finale quindi guardateci fino alla fine di Panorama Basket perché ce ne sarà ben d'onde Dane la prima cosa che mi viene da chiederti non è sulla partita ma è su di te sei ritornato a Forlì 4.300 persone al palazzetto in un derby accoglienza rumorosissima tanto caos però anche tanto affetto insomma che emozione hai provato per nove mesi ero a casa con i miei genitori come si dice quiet? come si dice quiet? era in silenzio era in silenzio molto in silenzio e questa transizione a silenzio a casa mia a Forlì è tanto casino i tifosi i tifosi l'applauso la partita era una gran transizione per me anche vinciamo soprattutto era fantastico te lo aspettavi questo tipo di affetto del pubblico? ancora? tanto ringraziamo e lo facciamo sempre Francesca Francesco Cecchi che con le sue traduzioni ci permette di parlare in maniera molto fluida con il nostro sì sì ok scusami ma per nove mesi io non parlo italiano devi rodarti ancora anche questo è una transizione per me è un allenamento ma no tifosi a Forlì sempre casino sempre rumori capito? sì 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 secondo me palafiera è un campo più difficile a giocare in tutto il campionato secondo me ma la persona di Forlì è molto forte capito? ok ok allora il tuo ritorno Enrico ti ha chiesto dei tifosi io ti chiedo invece che squadra hai trovato al tuo ritorno perché hai avuto modo di tornare a giocare con alcuni dei tuoi ex compagni sto parlando di Bonaccini di Quirino De Laurentiis dell'allenatore Valli e poi hai anche avuto modo di conoscere nuovi compagni di squadra com'è stato questo ritorno? è buono l'anno scorso abbiamo avuto una famiglia ma il talento quest'anno è diverso dell'anno scorso quando la squadra non vincere troppo l'ambiente è diverso quando la squadra vincere partite è più comodo capito ma adesso abbiamo più weapons più pistoli sul campo capito avete più armi da utilizzare più armi sì sì esatto perfetto con Buona con Rino con Giorgio con tutti lo staff sono contento io mi manca Giovanni Faluca ma adesso questa è la squadra ok in questo periodo che sei stato in America hai sentito qualcuno della tua squadra qui hai avuto qualche rapporto con qualche compagno non troppo non troppo quando ero a casa my focus era me all'allenamento pesi condizionata io non guardavo troppo Italia scusami ma è giusto è giusto quindi la squadra di quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso come ti sembra ancora talento più talento ma se giochiamo insieme siamo più pericolosi capito ma se non giochiamo insieme could be difficile ma adesso abbiamo buona energia positiva speriamo per quanto riguarda invece Giorgio Valli come lo hai trovato come lo hai ritrovato perché domenica era una partita davvero molto importante e la pressione penso che fosse tanta per lui era nervoso era tranquillo com'era? no no lui sta sempre consistente consistenza ma secondo me ogni partita è lo stesso non c'è troppo pressione non c'è meno pressione abbiamo questo è il nostro lavoro quando siamo in campo questo è il nostro lavoro e per tutta la settimana lavoriamo per la partita quando arriva domenica lo sappiamo il nostro lavoro capito? è il nostro lavoro certo ti chiedo io questo poi sentiremo invece la sponda opposta di questo derby ma perché Forlì ha vinto la partita avete giocato una partita di livello io? sì ripeto ti chiedo perché Forlì ha fatto suo questo derby avete giocato una partita di buon livello assolutamente ah ok ok capito capito no nel mio occhio questo è il solo partito visto di Forlì non ho visto le altre partite come ti è sembrata ho chiesto una domanda dopo la partita com'è possibile noi perdiamo una partita capito ma no ho detto abbiamo tanti weapons come si dice armi e siamo molto pericolosi ma secondo me la parte più importante è l'energia quando abbiamo energia positiva insieme we can do anything riuscite a fare di tutto sì allora energia questa è un po' la parola che mi serve come trade union Julio perché Forlì ha messo energia in questo derby Ravenna l'ha messa quando doveva provare a recuperarlo e non c'è riuscito l'inizio del match però è stato quello che ha fatto tutta la differenza del mondo sì sono abbastanza d'accordo anche se in realtà malgrado il nostro inizio non particolarmente energico per usare il tuo termine in realtà noi metà secondo quarto mi sembra che siamo arrivati a meno 5 due volte meno 5 io credo che rispetto alle altre brutte sconfitte di questa stagione perché poi noi diciamo che abbiamo un po' alternato sconfitte tra virgolette che ci stanno da una partita magari giocato sugli episodi a sconfitte più brutte rispetto alle altre brutte sconfitte questa è stata forse la prima volta in cui è mancato un po' degli aspetti tecnici secondo me più che non degli aspetti di energia cioè credo che poi alla fine noi abbiamo messo l'energia sul campo abbiamo completamente sbagliato quello che era l'esecuzione in un piano partita quindi abbiamo programmato la partita in un certo modo non siamo riusciti a portarla a partita tecnicamente sul nostro binario quindi questo è quello che penso sia la vera causa della nostra prestazione Ecco Julio io faccio vedere dalla regia una slide che abbiamo preparato un po' sui dati statistici un po' nudi e crudi di questo derby che sono tutti a favore di Forlì e tutti ovviamente a sfavore di Ravenna su alcuni dei punti poi svilupperemo io e te la discussione ti chiedo però a riguardare questi numeri da casa li potete vedere anche voi due gli aspetti che secondo me balsano molto agli occhi il primo sono le percentuali di tiro bassissime e il secondo però sono anche gli assist cioè sei assist a confronto ovviamente poi se poi non fai canestro non ti danno assist questo dal punto di vista statistico è la palissiano però denota anche un problema effettivo di costruzione sì ripeto quanto detto prima penso fondamentalmente che la qualità dei nostri tiri sia stata decisamente inferiore rispetto alla qualità dei tiri di Forlì penso questa cosa qua sicuramente merito anche della difesa dei nostri avversari ma in parte anche del merito di quello che è stata l'esecuzione delle cose che non dovevamo fare al punto in cui ripeto l'idea potrebbe essere in alcune situazioni quella di attaccare il canestro tramite penetrazioni che vuole dire un penetrazioni in palleggio tramite passaggi invece secondo me soprattutto all'inizio ci siamo molto aggrappati dentro da fuori che in alcune situazioni ha funzionato ma molto spesso visto che la percentuale non ha funzionato ma erano tiri sicuramente non buoni tiri con una scelta di tiri sicuramente non tiri della qualità che invece ha fatto Forlì esattamente allora adesso Ulio riprendiamo tra pochissimi istanti a parlare con te di questa partita e in generale della situazione giallorossa però Francesca adesso cedo la parola a te perché andiamo a iniziare a riconoscere a conoscere come sempre i nostri partner sì Enrico andiamo a salutare i nostri amici di MC Antifurti MC Antifurti propone moderni sistemi dotati di tecnologie all'avanguardia che vi permettono di controllare e tenere lontani malintenzionati fin dall'esterno di casa vostra con i sistemi MC ovunque vi troviate potrete gestire il vostro impianto e ricevere l'avviso di qualsiasi evento ad esso relativo direttamente sul vostro smartphone e tutto ciò attraverso una comodissima applicazione sempre attraverso l'app potrete inoltre accendere e spegnere l'antifurto gestire le luci in giardino e vedere le immagini delle telecamere di casa sia in diretta che registrate potete quindi uscire di casa in tutta tranquillità e fare sogni sereni perché a voi infatti pensano le soluzioni studiate e realizzate ad hoc dai tecnici specializzati di MC potete chiedere a loro un preventivo gratuito fissando un appuntamento chiamandolo 05 43725395 oppure visitando il sito www.mcsistemi.it o la loro pagina facebook MC Impianti Antifurto e Videosorveglianza è in via Balzella 41G a Forlì benissimo Francesca ritorna però solo per un istante la telecamera su di me che invito a andare sulla mia destra perché dove si porti adesso? andiamo un po' a viaggiare Enrico lo diciamo sempre che abbiamo bisogno di viaggiare però non lo facciamo mai quindi adesso esatto andiamo andiamo dai nostri amici di Viaggi Fortuna che da oltre 40 anni accompagna i suoi clienti alla scoperta del mondo e quindi perché non affidarsi ad assoluti professionisti che vi faranno risparmiare tempo fatica e anche denaro l'agenzia che trovate a Forlì in Corso Garibaldi 42 e in via Edison 1 vi assiste nella scelta del viaggio fatto su misura per voi con uno staff di 14 esperti affidabili ed appassionati che vi guideranno passo a passo per pianificare la vostra trasferta di lavoro o la vostra vacanza da sogno ed è proprio questa che oggi Viaggi Fortuna ci consiglia una settimana da sogno con Veratour in uno splendido villaggio nel Messico Caraibico il Veracleb Royal Tulum sulla riviera Maya si affaccia su una spiaggia candida bagnata da acque turchesi ed è proprio a due passi dall'incredibile sito archeologico Maya che sorge a picco sul mare il villaggio è una perla davvero esclusiva fa parte infatti dei tre Atmosfera Collection Veracleb strutture prestigiose riservate a chi ha più di 18 anni e caratterizzate dall'inconfondibile stile Veratour assistenza animazione e cucina rigorosamente made in Italy prenota subito la tua vacanza in Messico anzi prenota prima sì perché questo è il titolo della speciale promozione di Veratour con sconti fino a 400 euro a coppia che Viaggi Fortuna ci propone benissimo grazie Francesca noi torniamo adesso a parlare con Julio Trovato perché Julio Folleri va al derby da una situazione molto difficile se è sconfitte nelle ultime 8 partite Ravenna dà una vittoria a 100 importantissima con bei segnali anche di consistenza difensiva con 34 35 minuti ancora molto positivi con Udine quindi sembrava arrivare meglio al derby non voglio chiederti perché invece è arrivata al lato pratico peggio ti chiedo perché questi diciamo così alti e bassi continui e la squadra ancora non ha trovato diciamo una sua linea diciamo un fir rouge che unisce tutte le prestazioni vedo una squadra altalenante sicuramente questa è una stagione caratterizzata da alti e bassi stiamo anche soprattutto difensivamente cioè a parte in cui prendiamo come è successo a Forlì 90 punti a parte invece in cui riusciamo a tenere gli avversari in una buona posizione diciamo con una buona difesa a parte nostra questo credo che fondamentalmente per come riusciamo a limitare quello che è la qualità dei tiri degli avversari magari limitando quello che è il contropiede dell'avversario ma penso che il difetto in questo momento che finora ha avuto costantemente la squadra è proprio di non riuscire a limitare quello che sono i break della squadra dell'avversario spesso quando gli avversari hanno dei momenti di positività non riusciamo a bloccare questo momento la parte di placanestre è fatta molto spesso da break positivi e break negativi e chiaramente il tentativo è sempre quello di bloccare le break positive degli avversari e cercare invece di spingere il più lungo possibile i propri noi non abbiamo in questo momento dimostrato di avere questa forza non averla con continuità ecco cosa ti ha deluso soprattutto ma di Forlì o perché io credo che in generale non voglio limitarmi a una sola partita beh allora ribadisco in questo momento credo che la squadra sta lavorando sicuramente molto bene durante la settimana io seguo tutti gli allenamenti la squadra anche la settimana prima di Forlì è arrivata da una settimana di lavoro il corso sta facendo un ottimo lavoro quotidianamente sia a livello di squadra che a livello individuale in settimana abbiamo giocato anche un amichevole giocando con peso un amichevole di assoluto livello però poi arriviamo la domenica e sicuramente non riusciamo a capitalizzare tutto quello che il lavoro ha fatto svolto durante la settimana quindi quello che mi delude in questo momento è questa fase qua cioè proprio questo tipo di capacità credo che in questo momento il punto di debolezza sia nel manico sul campo cioè sia una situazione dove se dobbiamo migliorare è sicuramente migliorare nella gestione di quello che è la parte diciamo di playmaking sul campo durante la gara ecco manico sul campo hai usato un po' la parolina magica nel senso tanti tifosi hanno parlato di questa situazione ovviamente dei limiti che in questo momento e l'hai detto anche tu a Ravenna nella fase della costruzione del gioco però questo è un argomento anche molto caldo sul fronte mercato e ne parleremo tra pochi minuti in maniera molto ampia ti chiedo adesso invece giusto un flash perché altro argomento è Andrea Masson Andrea Masson ha un triennale quindi è un contratto importante Andrea Masson in questo momento ti chiedo proprio potresti anche rispondermi con un sì o con un no ha la fiducia come prima esattamente come prima da parte tua di tutto l'entourage di tutta la società di Ravenna ma sono in discussione detto proprio io credo che quando una persona qualunque ruolo ricopre all'interno di una società non ha più la fiducia il rapporto è già di pezzo finito esatto quindi io credo che la fiducia per quanto riguarda la mia figura nei confronti di Mazzone è totale è totale perché come vi dicevo prima vedo il lavoro che fa durante la settimana e anche nelle mie varie esperienze che ho fatto devo dire che è un lavoro di altissima qualità è chiaro che in questo momento la squadra sta dimostrando difficoltà dove nessuno è esente da responsabilità e quindi io per primo essendo a capo di una struttura lui a seguire e penso anche a molti giocatori per quello che devono avere quest'anno quindi non sto dicendo che nessuno di noi anzi sto dicendo che secondo me abbiamo fatto dal primo giorno una serie di errori stiamo cercando di recuperare rispetto a questi errori credo che la squadra stia comunque crescendo magari questi momenti negativi ma sono certo che la squadra andrà sempre meglio quindi io non credo che l'errore sia nell'avere contrattualizzato un allenatore o un giocatore credo che in generale uno poi può fare degli errori nel pensare che determinate situazioni possono svolgersi in un certo modo invece in realtà non vanno come uno avrà programmato perfetto Ulio poi Francesca sono credo già tante le domande che arrivano sia per Trovato che per Dendiliegro e avremo modo ovviamente di sottoporgliele una dietro l'altra durante questa trasmissione ora noi prendiamo un piccolissimo break poi però state attenti perché si torna per cosa? Per vincere in diretta con Panorama Basket Benissimo rieccoci Francesca siamo ancora qui in vostra compagnia per questa seconda parte di Panorama Basket che come dicevo si apre lo sapete benissimo con l'opportunità che noi settimanalmente vi offriamo per vincere in diretta con noi e vincere fa bene al palato vero Francesca? Eh sì perché i nostri premi sono sempre fantastici sto parlando del buono per andare a consumare gratuitamente una pizza e una birra dai nostri amici di Mami Margherita Mami Margherita è un ristorante davvero molto speciale che si trova in piazza Cavour 18B a Forlì che a voi offre primi piatti secondi e straordinarie pizze gourmet come vedete queste bellissime immagini esattamente è quello che vi aspetta ma soprattutto speciale perché è speciale perché ha un menù appositamente selezionato anche per i vostri amici a quattro zampe che quindi potete non lasciarli da soli a casa ma portarli con voi assolutamente allora insomma quest'oggi Francesca è una cosa un po' particolare è una cosa un po' particolare sì perché abbiamo deciso di svecchiare un pochettino il nostro quiz vero Enrico? Sì però io voglio dirvi che questo quiz ve lo dico in premessa è forse uno dei più difficili che abbia mai pensato quindi attenzione è un quiz che come la scuola settimana parla di musica lo fa però andando sulla musica del momento e non sugli anni 70-80 come di solito faccio vediamo subito il filmato e non sugli anni 70-80 ma credo che non posso posso, 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 posso posso più fermarmi ancora e poi ti chiedo se posso, 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 posso posso posso, posso posso e fidarmi di te e e e faccio male e e ho finalmente una ventata di freschezza nel nostro quiz Enrico no non ti voglio prendere in giro però effettivamente ho pensato io l'ho pensato effettivamente è molto più moderno più dei nostri giorni il quiz di questa sera come potete vedere questa è una canzone che nel suo clip utilizza le memoji nuove dell'iPhone X come mi diceva poco fa Enrico il titolo è posso ed è cantata da Carl Brave assieme a Max Gazzè ora vi dirò una cosa perché Carl Brave è il nome d'arte per Carlo Luigi Coraggio che dovete sapere è stato un giocatore di pallacanestro oltretutto a livelli piuttosto importanti che all'età di 22 anni però ha fatto la scelta di lasciare la pallacanestro per ritrovare la sua passione ovvero la musica ed è proprio su questo che vogliamo porvi le nostre domande questa sera 1 domanda numero 1 quando giocava pallacanestro da professionista Carlo Luigi Coraggio è stato guidato da un allenatore romagnolo tuttora attivissimo in panchina chi è? domanda numero 2 nella stagione di serie B 2010-2011 in maglia Castelnovo sotto giocò una gara contro Ravenna quanti punti realizzò? domanda numero 3 quale altro giocatore italiano di serie A lasciò il basket a inizio anni 80 per avviare una carriera da cantautore? sembrano difficili e lo sono però se sapete utilizzare bene i motori di ricerca in realtà è facilissimo quindi attenzione se voi non avete capito bene le domande di Francesca trovate sulla nostra pagina facebook il video con le domande così potete rileggerle e andare a fare le vostre ricerche mi raccomando date le risposte utilizzando Whatsapp e firmandovi così noi poi noi annunceremo il vincitore in diretta alla fine della puntata esattamente perfetto ok grazie Francesca noi ripartiamo ovviamente con la nostra discussione intanto voi studiate studiate per vincere e ritorno con Dane Dane ho preparato una slide che adesso la regia ci mandi in onda che ti accoglie l'abbiamo ironizzato un po' Dane to the future cioè ritorno al futuro e ritorno il nostro Dane di Liegro qui in Romagna sei alla un'esperienza ormai in Italia ormai lunghissima intanto stai facendo la foto benissimo io sono contento lo sai che hai fatto 1767 punti 1767 punti in Italia quindi ormai può andare versi 2000 qui a Forlì e ti chiedo però questa curiosità prima hai parlato di talento di talento che hanno questi giocatori nuovi per te compagni di squadra ad esempio Lawson e marini giacchetti non solo ma com'è giocare vicino a Kenny Lawson tu eri molto curioso di questa esperienza com'è stato il primo impatto lui è un gran giocatore ma io ricordo due anni fa tre anni fa ho giocato a Siena lui ha Recanati e lui e me è solo giocatore che ha una media doppio doppio e questo quando io ho imparato di lui I know him capito ma per giocare con lui insieme è più facile perché quando sono sotto il canestro lui ha più fuori è più difficile per la difesa perché vieni con me sotto il canestro però lui può colpire da fuori si ma lui è un gran direttore fuori fuori l'aria per noi questo creare più spazio più più comodo sotto il canestro assolutamente tu non sai forse lo sai che Julio ha trovato Kenny Lawson lo conosce molto bene avendola avuta in Virtus per due anni Julio questa coppia come può funzionare secondo te alla lunga ovviamente adesso quella con voi è stata la prima partita che Di Liegro e Losa hanno giocato in parte anche insieme in campo penso che possa funzionare sicuramente molto bene per le caratteristiche che ne ha detto credo che sono sicuramente molto dimensionati quindi da un certo punto di vista se potranno essere una buona arma in attacco chiaramente dovranno fare un po' attenzione in difesa però da questo punto di vista se troveranno i giusti meccanismi penso che potrà essere una coppia decisamente di lunghi e importante difensivamente da 4 l'Oson secondo te può tenere? dipende dal tipo di avversario dipende molto dal tipo di avversario chiaramente in questo campionato sono più gli atipici che non i tipici in quel ruolo lì però è chiaro che sicuramente si sta alzando anche il livello fisico non solo tecnico di questo campionato da un certo punto di vista ecco questa è una coppia che sicuramente fisicamente è da Serie A e invece il tuo Josh Ayrston a parte una partita come quella di domenica dove forse anche lui è stato un po' sottotono però è un giocatore che almeno ai miei occhi sembra in netta crescita in quest'ultimo periodo e forse bisognerebbe di qualche pallone in più esatto cioè io credo che fondamentalmente uno dei nostri errori sia proprio quello che l'abbia servito molto poco lui ha preso mi sembra che ha fatto il primo tiro dopo 5 minuti invece era il pieno partita proprio prevedeva invece un maggior utilizzo da parte nostra di lui nella posizione di post basso secondo me è un giocatore che sta rimostrando di fare molto bene difensivamente molto solido offensivamente ripeto sbaglia poco è chiaro che è un giocatore che ha bisogno di essere servito in maniera corretta Dane ti chiedo un po' di cose in questi nove mesi di assenza io ti chiedo che cosa hai fatto in che cosa consistevano poi i tuoi allenamenti cinque giorni a settimana ho svegliato colazione ho fatto pesi condizionata plyometrics cose diverse per il mio corpo perché è difficile fare allenamento per tanto tempo normalmente un giocatore di palcina deve fare un off season due mesi due mesi e mezzo nove mesi è difficile perché è un programma di pesi strano non puoi fare pesi molto duro per tanto tempo capito specialmente per me ero on call stavi aspettando una chiamata yeah any day ho ricevuto una chiamata di miei agent e poi dopo domani ciao volo fuori a Milano dove vuoi capito è difficile fare un programma pesi essere pronti farsi trovare pronti per tutto certo però a parte l'allenamento teoricamente ci dovrebbe essere anche una dieta abbinata ora io come tutti i tifosi penso che seguendo su Instagram le tue storie non mi sembrava proprio la dieta della della dell'atleta ecco perché tu pubblichi sempre delle cose strepitose per quanto riguarda il cibo ci fai venire l'acquolina in bocca a tutti per cui ti chiedo hai seguito anche una dieta a parte le tue storie o sei andato così no sulla storia è forse 10-20% la mia dieta ah ok è cibo più divertimento capito ok quale non è sulla storia di Instagram era verdura carne e verdura riso cibo noioso ok fai vedere il cibo bello fai vedere sì sì ma faccio io in cucina ma secondo me non è importante mettere su Instagram perché ok verdura riso polo non è trendy la verdura non è no no prossimo giorno ok verdura riso polo ok bravo basta dopo non hai più follower non ti seguono ma parlavi prima delle chiamate ti aspettavi questa chiamata da Forlì tre settimane fa ero molto vicino a Verona ovviamente ero sul giornale quando questo era finito ho ricevuto una chiamata di Renato poi per le prossime due settimane parlato con lui come my agent per creare una situazione per no tutte e due parti poi fino alla fine abbiamo una avete trovato un accordo sì abbiamo scoperto una cosa che non è stata una cosa dell'ultima ora tra Deine e la società due o tre settimane ci ha detto Deine che era in cantiere questo suo ritorno a Forlì ma infatti sapevo che hai ricevuto anche altre proposte da altre squadre e che poi sull'ultimo sono andate a naufragare quindi avevi questo timore anche per Forlì? sì tutto l'anno c'era un random tifoso dammi un messaggio come back in Forlì torna a Forlì we need you abbiamo bisogno di te bisogno di me ho detto non lo so non è mio deciso ma dopo Verona ho sentito I had a feeling sentimento sensazione per tornare a Forlì Forlì è la situazione più comoda perché non c'era una grande transizione lo so sapevo la città la strada il Giorgio il sistema di giocare è facile ma sono molto contento del ritorno di Forlì ottimo molto bene sicuramente sono anche molto contenti tifosi una domandina forse la facciamo già adesso poi avremo la terza parte per dare libero sfogo a tutte le domande per fare una domanda intanto in merito a questa chiamata c'è chi dice grande Dane naturalmente sarai confermato anche la prossima stagione perché due errori consecutivi la società non li può fare ti chiedo io il nostro tifoso mi fa venire in mente a me una domanda da rivolgerti se sei rimasto male perché non sei stato confermato quest'estate se sei rimasto male perché la società non ti aveva confermato quest'estate non te l'aspettavi di andare via questo è palcanestro è un business ma come si dice onestamente come si dice wanted o volevo andare a Serie A per provare perché secondo me posso giocare a Serie A cioè hai giocato a Sassari sì sì ero molto tanti tanti anni fa ma adesso voglio provare sei pronto sì sì ma non ero troppo disappointed come si dice dispiaciuto deluso ma no ancora non vi eravate lasciati sì ma palcanestro è un business ho capito questo questo è bravo ero emozionato quando non hai preso niente sul tiro libero ero molto emozionato ma la mia mano era scivola sudo non so cosa succede normalmente si chiama emozione lo so io Giulio ci sono un sacco di domande per te però dai ancora dai 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 non mettere stop we don't want that stop perché adesso andiamo da Francesca che dove ci porti Francesca andiamo a salutare altri nostri amici di Panorama Basket sto parlando di Basketball Stars Camp perché con loro andiamo ad avere a creare un'estate tutto basket Enrico per migliorare infatti la propria tecnica conoscere grandi campioni imparare i loro segreti e soprattutto divertirsi a due passi da casa al Poli Sportivo Cimati di Roncadello beh questo è il Basketball Stars Camp il terzo Basketball Stars Camp il camp estivo dedicato a tutti i ragazzi nati tra il 2001 e il 2008 che torna a Forlì dal 10 giugno al 5 luglio con la direzione tecnica di Richard Lelli e Simone Pieric se hai voglia di migliorare i fondamentali vivendo un'esperienza unica di gioco e amicizia iscriviti a uno dei quattro turni settimanali focalizzati su ball handling tiro da fuori tiro da vicino e alta specializzazione Basketball Stars Camp è aperto ai giovani cestisti e cestiste di qualsiasi società sportiva e si svolge sotto la guida di uno staff di istruttori di grande esperienza anche quest'anno torna poi il mini camp diretto da Jonathan Angeli ed Enrico Ruffilli per permettere anche ai più piccoli dagli 8 ai 10 anni di vivere le prime emozioni con la falla in mano ad ogni turno ospiti allenatori e giocatori professionisti pesca di beneficenza con materiale autografato dai campioni a sostegno di wheelchair for Lee villaggio Mafalda e 7 for you Matteo Bertolazzi e novità del 2019 una giornata di camp in piazza Safi assieme a Marghe All Star non perdere tempo consulta il programma sul sito starscampforlee.it e iscriviti al costo compreso tra 60 e 125 euro contattando gli indirizzi che vedete adesso in sovra in pressione benissimo Francesca io ti porto a fare degli sprint di solito Dandy Liegro dice il campionato non è una gara nei 100 metri piani è una maratona invece io ti faccio correre i 100 metri piani dove andiamo? andiamo a salutare altri nostri amici parlo di Robinson Pet Shop non un semplice negozio per animali ma un punto di riferimento in cui trovare migliori alimenti per cani e gatti e i consigli di un personale esperto e qualificato Robinson Pet Shop infatti punta tutto sulla qualità lo fa scegliendo di riempire le scansie dei propri negozi con marchi rigorosamente selezionati qui trovi solo i migliori prodotti spesso biologici tra i quali scegliere per nutrire in maniera naturale il tuo amico a quattro zampe senza l'utilizzo di sostanze chimiche appetizzanti o ingredienti di scarto nei loro punti vendita allestiti avvalendosi delle soluzioni studiate da Reda Metallici acquistare il migliore prodotto per il tuo animale domestico sarà facile grazie alla competenza del personale composto da laureati in veterinaria scienze biologiche farmacia o itiopatologia ma anche da volontari di canili gattili e allevatori tutte persone accomunate dalla passione per amici che da Robinson Pet Shop non sono considerati semplici animali domestici bensì membri a tutti gli effetti di una grande famiglia scoprelo anche tu nei 10 punti vendita presenti in tutta la Romagna e visitando lo shop online sul sito Robinson Pet Shop benissimo grazie Francesca però io da te voglio sapere anche un'altra cosa ovvero sia voglio sapere chi sono stati i migliori giocatori che abbiamo selezionato questa settimana per quanto riguarda il turno di campionato che si è appena giocato beh Enrico guarda abbiamo una top 5 che è stata difficile da fare questa perché ci sono tanti i giocatori meritevoli della nostra classifica però partiamo dal quintetto base perché abbiamo anche delle menzioni speciali nel nostro quintetto ideale del ventunesimo turno non potevano mancare i due forlivesi Kenny Lawson e Jacopo Giacchetti con il play autore nel derby della sua migliore gara da quando è in bianco rosso ottima anche la prestazione dei due lunghi di Cesena e Faenza David Berkic è decisivo nel successo sudesio e Gioacchino Chiappelli fa la voce grossa ad Olginate perde ma esce comunque a testa alta al centro di Imola Alessandro Simeoni però dicevo anche menzioni speciali infatti ne abbiamo tre una per il ritrovato Pierpaolo Marini di Forlì la seconda per il Cesenate Andrea D'Agnello e la terza per Mattia Venucci di Faenza che con la partita in parità al trentunesimo minuto segna ben undici punti in fila e guida i suoi alla vittoria esattamente e come dicevamo è stato difficile perché tanti altri giocatori erano stati protagonisti di prestazioni personali di livello penso ad Adam Smith penso a Tim Bowers però abbiamo preferito avendone tanti potenzialmente da inserire di preferito privilegiare chi poi aveva ottenuto con le nostre menzioni speciali la vittoria sul campo quindi solo per questa settimana ovviamente prestazioni pur meritevoli come di Smith e di Bowers non sono state inserite nella nostra top 5 abbiamo citato Giacchetti però io vado da Julio Trovato perché tutti conosciamo le dinamiche del mercato tutti sappiamo che Ravenna per la sua stessa missione sul mercato è vigile si dice così tutti abbiamo letto quello che diciamo delle newsletter specializzate sulla palacanestro hanno riportato nella serata di ieri la faccio molto breve nella serata di ieri è emersa che la situazione delicata che si sta vivendo a Siena potrebbe favorire la diaspora di molti giocatori tra i quali Tommaso Marino Prandin e tanti altri su questi giocatori avrebbe messo gli occhi proprio il basket Piero Manetti per un inserimento in questo momento in rosa ma anche per non eventualmente un'aggiunta ma un cambio in corsa che coinvolgerebbe lo stesso Lagana allora io chiedo adesso a Julio Trovato ad oggi siamo vicini alle 10 di sera non ho visto comunicato ufficiale della società quindi di ufficiale non c'è nulla però cosa bolli in pentola in questo momento stiamo chiaramente lavorando per con varie possibilità di operazione abbiamo quello che può essere una nostra scala di priorità speriamo di chiudere tutto nella giornata di domani è chiaro che i siti che hanno menzionato questo tipo di operazioni in Italia sono molti siti specializzati sono spesso magari comunque utilizzati o gestiti tramite le agenzie quindi magari vengono utilizzati anche per per divulgare proprio delle delle situazioni che aiutano anche la società a inserire o rimettere sul mercato alcuni giocatori credo che siamo maturi in questo momento per per fare un'operazione ci possono essere delle opportunità di farla speriamo di riuscire a farla ecco non le varie tra le pare possibilità dobbiamo concentrarsi su quei due nomi o ci sono c'è un cu de teatro ci sono anche altre possibilità adesso vedremo chiaramente di questi due nomi che abbiamo fatto io resto su questi uno non è proprio un play che è Prandin l'altro è più play che è Tommaso Marino mi pare di capire che voi in questo momento cercate un play puro cioè un play moderno ma comunque che abbia delle doti di regia forse Prandin ne ha di meno diciamo come dicevo prima secondo noi questo è un momento in cui vorremmo aggiungere un maggior playmaking alla squadra e quindi vorremmo inserire un giocatore che possa dare un bel contributo in quel ruolo domani hai detto speriamo di chiudere l'operazione domani io credo che dobbiamo chiudere l'operazione domani ci permetterebbe comunque di avere il giocatore per ridarvi con il mola per ridarvi con il mola esatto Francesca sul mercato sul trovato ci sono delle sollecitazioni dei nostri telespettatori sì infatti Enrico c'è Hierro che ci scrive questo dopo quattro mesi ancora nessuno in società che abbia riconosciuto i parecchi errori nella costruzione del roster siamo senza un vero 1 e un vero 5 abbiamo 3-4 giovani che non mettono piedi in campo nemmeno quando i cosiddetti titolari continuano ad offrire prestazioni imbarazzanti non si può dire che siano stati valorizzati ed abbiano acquisito un po' di esperienza come programmazione triennale si poteva cominciare con idee un po' più chiare ce n'è un'altra se non sbaglio che chieda trovato cosa insomma tra virgolette se ha qualche rimpianto no? che potremmo collegarli idealmente con un'unica risposta a quello che abbiamo fatto adesso potendo tornare indietro al mercato estivo chi compreresti ancora e cosa cambieresti nell'organico di questa Ravenna che non vince ma soprattutto non convince questo è un messaggio firmato da Francesco sponsor di Ravenna molti conti si fanno alla fine però già adesso qualcosa insomma Julio potresti insomma qualche tuo convincimento te lo sei fatto sì credo che adesso su dovessi tornare indietro e che cosa farei beh chiaramente il seno del poi è pieno il mondo detto questo questo tipo di votazione solamente andrebbe fatta veramente a fine stagione oggi è comunque troppo presto siamo ancora in corsa per per comunque degli obiettivi importanti quindi non credo che non sarebbe corretto e onesto oggi fare delle votazioni di questo genere perché l'obiettivo di Ravenna è comunque prendere i playoff l'obiettivo con cui siamo partiti da prendere i playoff oggi comunque è chiaro che la classifica non è cambiata la scorsa settimana ma con le due squadre che devono ancora giocare il turno in realtà la classifica che è vista prima ci mette fuori sul terzetto apparimento però in caso di nell'attuale classifica a Bursa noi saremmo dentro quello che è il playoff detto questo non è che dobbiamo ancorarci su questa situazione qua cioè credo fondamentalmente che che la situazione sia una situazione di criticità è sicuramente il caso di mettere le mani su quello che è la squadra e cercare di capire come poter dare un contributo sarà comunque una scusa Giulio no credo che anche la prima domanda merita una risposta cioè fondamentalmente penso che ovviamente noi non stiamo sempre offrendo uno spettacolo degno credo che il pubblico Ravennata è veramente un pubblico incredibile che anche Domenica Forlì ci ha seguito e a cui noi non abbiamo offerto ripeto sicuramente una grande prestazione con questo credo che dei tre andri che ne abbiamo in rosa un ragazzo sta giocando tanto e sta anche avendo la simpatia dei tifosi che è Yurkata chiedo comunque che la ganasse un ragazzo molto giovane perché è un ragazzo comunque di 25 anni ma che fondamentalmente ha 23 anni di basket avendo le due persi per gli infortuni e quindi da un certo punto di vista penso che in realtà noi stiamo lavorando e la struttura sta crescendo sta crescendo in tutto quello che è l'organizzazione societaria in tutto quello che è l'organizzazione tecnica di lavoro e quindi io chiedo ancora della pazienza perché penso che invece secondo me potremmo toglierci da grande soddisfazione io pazienza ne ho e infatti chiedo la regia ancora un minutino poi andiamo in pubblicità perché hai citato Marco Laganà prima hai parlato di un'operazione che era venne intenzione di fare sul mercato per un regista possibilmente entro la giornata di domani allora ti chiedo questa operazione fa sì che ci sia un'operazione in uscita Marco Laganà può considerare a essere ancora un giocatore facente parte stabilmente del roster di Ravenna o è sul mercato? Fondamentalmente in questa situazione qua io mi sono confrontato con il suo agente proponendogli delle soluzioni in uscita per Marco Laganà contemporaneamente è chiaro che l'operazione andrebbe conclusa con un'operazione d'entrata altrimenti non avremmo comunque un roster competitivo da schierare nel prossimo futuro quindi è chiaro che le due possibilità ci sono però non vi nascondo che sicuramente in questo momento il mio confronto con il suo agente è stato quello di trovare delle soluzioni perché credo che a oggi sarebbe la soluzione migliore per noi e per lui Perfetto questo credo che perfetto insomma anche tra virgolette se fine sarà del rapporto tra Raganà e Ravenna è anche una fine un po' triste perché era un progetto importantissimo di rilancio di questo ragazzo e Ravenna poteva veramente essere la piazza giusta per rilanciarsi sul perché ovviamente ciò non sia stato ne parleremo nella terza parte però adesso un attimo di pubblicità poi torniamo parleremo della sfida che attende Ravenna con Imola e la analizzeremo dal punto di vista tattico parleremo con Giorgio Sgobba al telefono poi riprendiamo Francesco con domande ai nostri ospiti tante 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 pubblicità Ben ritrovati a questa terza parte di Panorama Basket come annunciava poco prima Enrico si parlerà della derby che attende Ravenna questo weekend dal punto di vista tattico e lo facciamo con la nostra rubrica di Fantattica Anna beh infatti abbiamo parlato di Ravenna che giocherà in casa ed ospiterà Imola per un secondo derby una Imola che sta avendo un campionato davvero molto positivo Enrico perché sicuramente gioca molto bene ma gran parte dei suoi successi è dovuto anche alla coppia di americani composta da Tim Bowers e BJ Raymond che oltretutto troviamo molto spesso nella nostra top 5 ed è proprio su questo che la nostra amica Anna Maria Fantini ha focalizzato la sua attenzione e ci andrà a disporre tutte le loro qualità per poter aiutare per così dire Ravenna a vedere su cosa invece concentrarsi nella partita di domenica guardiamo subito Amiche e amici di Panorama Basket bentornati oggi puntata speciale perché parleremo di una coppia di americani tra le migliori del campionato di A2 sia a livello di rendimento che a livello di continuità sto parlando della coppia di americani di Imola cioè di BJ Raymond e di Tim Bowers partiamo subito con Tim Bowers è una guardia a tutto fare trova la sua massima espressione nel tiro da tre punti ma è bravissimo anche nel gioco senza palla nello sfruttare il pick and roll da palleggio e nel farsi trovare libero in qualsiasi momento vediamo ora qualche filmato che parla di lui sarebbe un buon viatico ovvio che il campionato è ancora lungo invece per Imola mettere altro fieno in cascina vorrebbe dire avvicinarsi veramente tantissimo per le naturel Simeoni consegna si butta dentro Bowers gioco ancora attorno al perimetro Bowers sei secondi per tirare scarico dentro ancora sul back door è ancora la chiusura un po' in ritardo della difesa di Imola un possesso pieno di vantaggio per la scuola di casa 16 a 13 l'incursione di Bowers vediamo ora qualche clip riguardante BJ Raymond un giocatore stratosferico spalla canestro che sarebbe veramente da studiare da far provare ai giovani sul campo è pericoloso anche dalla lunga e dalla media distanza viaggia a 20 punti di media partita e che dire godiamocelo un attimo per una azione fatta bene intanto andare ad affeccare la rimessa servito Bowers che riceve Mantua sceglie di difendere di non fare fallo si va per Raymond che attacca il canestro Raymond va fino in fondo segna segna Imola di là palla in mano pallone sotto per BJ Raymond il pubblico chiama Gramoce il fallo va dentro Raymond alza la parabola più forte Nicola Scorca aveva già la palla la palla in mano se l'è fatta sfuggire bene invece gli avversari che sembrano veramente molto più reattivi sulle palle vaganti squadra in bonus dunque aspettiamoci un finale molto lungo intanto beh tanto talento e tanta tecnica per questa coppia USA di Imola è divertentissimo vederli giocare insieme e tra l'altro si ritrova una meraviglia in qualsiasi parte del campo pericolosissima il loro picker al laterale dove possono trovare diverse soluzioni sia in avvicinamento che dalla lunga distanza bene non ci resta che augurarvi un ennesimo favoloso weekend di palacanestro e noi ci vediamo alla prossima ciao perfetto ritorniamo in studio intanto vi aggiorno sul sondaggio Instagram il 57% di voi dice che questo derby di cui ha parlato Anna Maria Fantini lo vincerà Ravenna il 43% invece vede favorita l'Andrea Costa Imola Andrea Costa Imola che domani alle ore 18 giocherà un amichevole lo farà in casa dei Raggi Solaris Faenza amichevole aperta al pubblico quindi andate a vederla Raggi Solaris Faenza che giocheranno domenica ad Eso e tra l'altro per la prima volta la partita sarà trasmessa in diretta su Youtube in chiaro per tutti i tifosi che non potranno essere adesi o potranno vedere nel canale dei Raggi Solaris che dalla scorsa partita vinta ad Olginate ha un nuovo volto subito impattante sulla squadra con 15 punti e una buonissima prestazione Giorgio Sgobba ha aiutato Faenza a ritrovare un successo che come quello di Forlì serviva tantissimo davvero ai Manfredi e Giorgio Sgobba l'abbiamo con noi al telefono ciao Giorgio buonasera a tutti e grazie per la telefonata grazie a te di essere in nostra compagnia purtroppo saremo abbastanza veloci però intanto chiedo alla regia se può fare vedere una slide che abbiamo preparato su di te perché sei davvero un giramondo ne hai girate tante di squadre partendo dalla tua Siena per poi arrivare a Faenza dopo un triennio importante in Serie A e A2 cosa ti ha spinto a fare questa scelta diciamo di ritornare nella Serie Cadette allora io quest'anno ho iniziato a Scafati avevo firmato anche un contratto biennale poi per alcune situazioni che si sono create anche un innesco di un nuovo giocatore ho dovuto praticamente rescindere per il poco spazio che avevo e Faenza è stata la prima squadra che mi ha contattato subito dopo la rescissione una società con grande ambizione che lotta le final eight di Coppa Italia lotta per i primi posti nel girone B e quindi è stata una scelta maturata presa diciamo dopo due giorni subito praticamente non ci hai pensato un attimo ascolta Giorgio che tipo di giocatori impareranno a conoscere i tifosi ma un giocatore disponibile un molto altruista che cerca sempre di anche di portare il sorriso in campo ed aiutare i più giovani diciamo che anche come hai detto te con queste e con queste esperienze anche in Serie A e in A2 di portare diciamo un po' un po' di esperienza in questo campionato di fatto nel campionato di Serie B possiamo considerare un 4 che può giocare 3 anche 5 anche 5 anche 5 sì sì soprattutto con questa squadra che facciamo molti cambi su kick and roll anche con i 3 con la guardia quindi abbiamo un quintetto anche abbastanza a volte non troppo alto con Gioacchino Chiappelli che gioca da 4 e io da 5 quindi aumenti il tasso di fisicità diciamo della formazione di coach Friso Friso che conoscevi già come allenatore? sì Friso lo conoscevo perché l'ultimo anno che sono stato a Masse Cozzine dove sono cresciuto gestisticamente lui era Pistoia e qualche volta sono andato a vederlo quando allenava Pistoia ecco quindi lo conosco come allenatore ora Giorgio Vittoria al tuo esordio a Olginate si va a Desio è diciamo necessario fare il bis per tenere il passo delle prime in classifica in una classifica che l'abbiamo vista all'inizio puntata è davvero cortissima ed indecifrabile assolutamente siamo sesti con due punti dalla prima in classifica quindi molto corta come classifica ora andiamo a Desio una partita delicata comunque loro sono una squadra che lotta per la salvezza in caso sicuramente proveranno in tutti i modi di vincere la partita noi però dobbiamo essere più bravi perché se vogliamo mantenere certi obiettivi dobbiamo andare lassù per vincere assolutamente per prepararci poi alla partita di Vicenza e al derby con Cesena e alla Coppa Italia prima infatti fate perché è un ciclo abbastanza importante con la Coppa Italia l'ultimissima domanda poi aspetto di poterti conoscere anche di persona qui negli studi di Panorama Basket cosa ti aspetti dalla tua stagione da questa metà stagione che stai vivendo iniziato a vivere a Faenza beh con questi obiettivi aperti direi spero il più possibile di raggiungerli tutti ovviamente poi per scaramanzia non dico niente però spero di finire molto bene questa stagione e portare Faenza più in alto possibile ecco e poi stabilizzarti dai insomma le valigie in mano le hai avute tanto se ti stabilizza non è un male sì è vero è vero infatti va bene Giorgio per ora ti ringraziamo tanto della tua disponibilità in bocca al lupo per questa stagione crepi e buon proseguimento grazie grazie a te assolutamente ho valigie in mano Francesca ha avute anche il nostro Dain poi alla fine ha trovato che è andato ci dice è tornato a Canossa per dire Dain torna torna a casa come la Marlena dei Maneskin lui è tornato la Marlena noi l'aspettiamo ancora non è ancora arrivata però Dain è arrivato e a proposito Dain quando sei arrivato a Forlì qual è stata la prima cosa che hai fatto voglio saperlo la prima cosa è dormire jet lag è stato impegnativo anche adesso c'è jet lag ma è importante per me per vado all'allenamento per guardare la squadra Sibona Rino Giorgio tutto direttamente all'allenamento ad allenarti subito ti ha messo subito a lavorare ma ascolta io ho visto sempre dalle tue storie di Instagram che il lunedì l'hai battezzato subito con un'altra avventura dove sei andato? ieri? sì yesterday c'è un piccolo paese Sassolione sì sud di Imola o terme di San Pietro ok questa è San Pietro sì sì io ho guardato una mappa e ho visto Sassolione quindi io ando in montagna sì e ti sei lanciato subito ma ti ricordi ancora la prima avventura che hai fatto quando sei arrivato qui a Forlì? te la ricordi? no e quella più bella invece qual è stata? oh dico i dracoli? sì ah sì con il drone col drone che hai fatto quelle riprese che insomma è illegale illegale esatto ma ascolta che cos'è che ti ha mancato di Forlì? perché questo ce lo chiedono anche i tifosi che ci chiedono Dane in questi mesi cosa ti è mancato di più? i tifosi le gite sulle colline della Romagna o il cibo romagnolo? difficile mi piace i tifosi veramente tanto ma per me l'avventura perché durante l'avventura c'è cibo romagnolo una tira l'altra tra virgolette sono strettamente interconnessi sì l'avventura è il tuo moment il tuo momento ti rilassi durante la settimana c'è palacinestro lavoro lunedì per ricarica per me per rigenerarci adesso però diamo una notizia io ai tifosi perché se ho visto bene Dane tu da ieri hai aperto il tuo canale youtube sì e sul tuo canale youtube potete vedere le avventure video di tutto di più anche quello che hai fatto in america in questi mesi si vede sì questo è Boston University quindi iscrivetevi perché su instagram è buono guarda no ma perché ho fatto la storia su instagram ma per me è più importante fatto la storia più professionale capito sì ho comprato una camera professionale alta qualità un microphone anche questo è una sfida per me perché non lo sapevo come fare editing color grading è una lezione capito e se non sbaglio questo video che è caricato su youtube si chiude con te che firma il contratto con Forlì è vero? sì non ero finito con il video poi il contratto arrivo e ho pensato questo è perfetto per finire il video è lì Francesca c'è tutta la storia dei nove mesi di Dendiliegro ritornato in America e poi tornato a Forlì assolutamente Francesca domande ancora per Dane e poi passiamo ovviamente anche a quelle per il nostro Uglio Trovato perché ci sono tanti temi ancora lasciati in sospeso beh sì allora con Dane intanto una considerazione ecco quindi scusate intanto il contratto con Dane nel roster la squadra ha maggiore peso sotto canestro un Lawson con meno pressione migliori opzioni di tiro e penetrazione questo è davvero un ottimo acquisto io assolutamente ne sono convinto concordo con quello che ha detto il nostro telespettatore ovvio non dimentichiamoci che poi tornerà Quirino de Laurentiis quindi Quirino de Laurentiis ha fatto finora un ottimo campionato e quindi non pensiamo che finisca nel dimenticatorio dovrà giustamente ritrovare il suo spazio Ancora chiedono per Dane Roberto anzi scrive Dane che cosa gli avresti voluto fare a Hairston quando dopo il suo sfondo ti ha messo la palla sullo stomaco Cos'è successo? Io non me lo ricordo No ho pensato lui ha dimenticato la palla e dicono oh ho trovato la palla ma non lo so forse lui era arrabbiato non lo so ho fatto la difesa e poi basta va bene aveva dimenticato la palla su di te questo questo ho trovato la palla benissimo Francesca riprendiamo con Ulio però prima adesso dove ci porti andiamo a salutare i nostri amici di Arreda Metallici di cui ne abbiamo poi parlato prima parlando di altri amici Arreda Metallici con loro vi vogliamo far entrare in un mondo di idee e di soluzioni pensate e progettate per la comodità e la funzionalità del vostro ufficio del vostro esercizio commerciale e della vostra casa è il mondo Arreda Metallici la ditta di Forlì che da 30 anni opera nel settore dell'arredamento con spiccata professionalità ed estrema attenzione alle esigenze dei suoi clienti Arreda Metallici progetta, realizza, distribuisce e posa direttamente in loco scaffalature per uffici, scuole, biblioteche, studi professionali, aziende e negozi spaziando dai sistemi componibili per magazzini a banchi, vetrine e supporti espositivi adattabili ad ogni spazio e categoria merceologica le loro soluzioni sanno soddisfare ogni richiesta e rendere pratico e confortevole qualsiasi ambiente potete trovare complementi d'arredo in metallo e non solo cabine armadio, librerie, classificatori, mobili e poltroni per l'ufficio targhe e segnaletiche di sicurezza, stander, accessoristica ed espositori di ogni tipo in più una speciale attenzione per lo sport con la realizzazione di panche e di spogliatoi per le palestre Arreda Metallici lo trovate in via Gorizia 222-224 a Forlì visitatela e contattatela gratuitamente e senza impegno il suo personale specializzato prima di tutto riascolta benissimo Francesca adesso però andiamo a vivere altre situazioni altre esperienze infatti Romagna Fiere ci ricorda che da venerdì 15 a domenica 17 febbraio torna a Natural Expo con la sua ricca offerta di prodotti naturali e soluzioni per la salute, per la bellezza, la cura della persona e della casa ti aspettano tanti nuovi stimoli per la mente, il corpo, i sensi e l'anima scoprili in una grande area espositiva arricchita dai due nuovi settori anima creativa dedicata alla manualità e all'artigianato artistico e canapa corner per conoscere tutti i prodotti e i possibili utilizzi della canapa la rassegna incentrata sugli stili di vita sani, ecologici, etici e solidali per tre giorni sarà arricchita da conferenze e seminari gratuiti tanti i relatori di fama presenti tra i quali Nader Butto e Pietro Mozzi in più sabato 16 arriva a Forlì la tappa del tour Biosalus per scoprire tutti i benefici dello shiatsu a Natural Expo potrai rilassarti nel salotto olistico per godere di massaggi e consulenze personalizzate partecipare a free class di yoga o a sessioni di danza per curare lo stress e ritrovare l'armonia e potrai fare tanto di più consultando tutto il programma su naturalexpo.it e scaricando anche la riduzione per entrare a soli 6 euro Benissimo Francesca Ulio, abbiamo parlato di Marco Laganà probabilmente finirà la sua esperienza a Ravenna è un rimpianto però questo per te prima hai parlato di rimpianti in generale beh sì, in questo momento chiaramente non so credo che lo sia un po' per tutti in questo momento non lo sappiamo, ribadisco io ho sottolineato prima cioè non è che in questa fase qua io solo ho sentito la gente per cercare di capire eventualmente nel momento in cui ci fosse un ingresso in squadra e di trovare delle soluzioni in uscita ovviamente in questo momento non si sa il rimpianto è vero e io credevo e credo che lui sia un ragazzo con delle ottime qualità tecniche penso che lui ha fatto delle stagioni molto importanti per gli infortuni sono convinto che possa ritornare a essere quel tipo di giocatore poi magari non è adatto in questo momento alla squadra o la squadra non è adatta a lui quello potrebbe essere sicuramente un qualche cosa però penso che le qualità del giocatore non sono in discussione sono di assoluto livello è un ragazzo che ripeto tre anni fa ha firmato un contratto importante con la Serie A perché poteva andare a giocare ha avuto un po' di sfortuna però si sta rimettendo in discussione con tanta volontà e quindi credo che questa sia una cosa che assolutamente gli dobbiamo riconoscere perché così come gli dobbiamo riconoscere che delle nostre nove vittorie molto sono anche merito suo il derby d'andata è uno di questi esempi esatto quindi la squadra sicuramente non sta girando come ci aspettiamo ed è giusto pensare di fare delle modifiche con questo non credo di... in questa fase io assolutamente non mi sento di puntare il dito su di lui anche perché guarda vengo dalla tua nel senso purtroppo andando a vedere le statistiche in questo momento di Ravenna ci sono delle statistiche che sono abbastanza impietose sotto certi punti di vista non possono mai essere colpe di un solo giocatore Ravenna è l'ultima nel tiro da due l'ultima nel tiro da tre l'ultima negli assist per valutazione insomma non si può certo imputare tutto a un giocatore detto questo Francesca un po' di domande per Julio Trovato sì Enrico allora in merito al discorso di Lagana Lagana è sempre in doppia ed è il secondo nei rimbalzi ed è l'unico che punta al canestro considerando che la squadra ha pochi punti nelle mani a mio parere è pericolosissimo mandarlo via questa è un'opinione ovviamente di uno dei nostri tifosi ovviamente le qualità di Lagana anche dovute all'altezza un playmaker atipico un po' la rigodò quindi metteva frutto anche questo tipo di qualità in positivo non è tutto nero ricambiamocelo difendendo male e tirando con percentuali dal campo sotto il 40% non si può pensare di vincere le partite se poi l'unico giocatore continuo è Smith spero che lo abbiano vaccinato contro l'influenza perché se si ammala lui siamo spacciati Rick da Ravenna Ulio a questa domanda ne aggiungo una io adesso era una domanda me l'ha sfuggita c'è una considerazione che possiamo volgere a modo di domanda insomma da dove si può ripartire adesso da dove deve ripartire Ravenna adesso al di là del mercato credo che dobbiamo ripartire da dove siamo sempre ripartiti nei momenti negativi e cioè A dal lavoro in palestra Rick da Ravenna è una squadra che ha sempre lavorato che è una squadra che purtroppo da subito purtroppo ha avuto un alone di negatività però da un certo punto di vista ribadisco ha sempre lavorato siamo in una situazione dove non so poco fa la stagione di di Imola comunque viene dettata con una stagione positiva se noi domenica vinciamo con Imola siamo a pari punti con Imola e con 2-0 con loro quindi mi viene da pensare che a parità di valore se vinciamo domenica siamo in una stagione positiva quindi forse bisognerebbe considerare molti punti di vista io non credo che oggi siamo in una stagione positiva tutt'altro io credo che oggi stiamo faticando penso che stiamo chiedendo un grosso sforzo al nostro pubblico nel chiedere pazienza però invito tutti veramente a venireci a trovare durante il settimane dove la squadra lavora e a considerità con professionalità e ritengo che per fortuna perché penso per fortuna che questo tipo di lavoro sicuramente pagherà bisogna avere la pazienza che paghi abbiamo un'ultima domanda caso mai Francesco un'ultima riflessione sempre sul discorso Mazzon perché hanno visto tantissime domande chiediamo un'ultima opinione a Ulio Trovasse sì infatti Enrico Alex D'Alfonsine ci scrive dopo aver visto le ultime sconfitte con Cagliari con Udine e sentito il relativo post-gara eppure la batosta indecorosa con Forlì avevo scritto 20-25 domande per il nostro DS ma per non trasformare il programma di Pasini in quello di Fabio Faccio la riassumo in una sola non crede che il nostro coach sia in confusione totale non crede che sarebbe giusto lasciarlo riposare un po' dando una sterzata tecnica al basket Ravenna riposare un po' cosa vorrebbe dire non lo so hai l'ultima risposta su Mazzonvis che sono tante no beh ho già risposto prima a questa domanda qua non credo che questo sia la soluzione dei problemi cioè nel senso che poi purtroppo quando si ha un ruolo di timoniere uno deve fare delle scelte e delle volte le scelte non saranno anche quelle giuste però io sono convinto che in questo momento non è lì il nostro problema sono convinto che abbiamo un problema ma non sono convinto che nella guida tecnica è il nostro problema anzi sono rinvito nuovamente le persone i nostri tifosi a venire anche durante la settimana dove ripeto la squadra lavora con costanza e Andrea guida questa squadra con grande diligenza perfetto grazie Ulio altre domande risponderemo nella nostra diretta post diretta scusate il besticcio di parole perché siamo su Facebook a finire di rispondere a tutte le vostre considerazioni siamo davvero in chiusura Francesca abbiamo un vincitore del nostro concorso lo abbiamo ovviamente lo abbiamo allora tra 20 secondi prima di salutare i nostri ospiti e voi ne sveleremo l'identità se per te lo sport è tutto corri dove trovi tutto per lo sport da Sportacenter a Cesena una vastissima scelta di scarpe abbigliamento attrezzature per lo sport e il tempo libero con i marchi più amati e di qualità come Mizuno e i suoi innovativi modelli di scarpe da corsa Sportacenter e anche Teamware fornitore unico delle divise ufficiali Mizzuno del Cesena Calcio a Pieve Sistina di Cesena in via Ricasso di 43 o comodamente a casa tua sul sito e-commerce www.sportcentercesena.com Benissimo Noi intanto chiediamo scusa a Luciano Poggi che seguirà dopo di noi per averli sottratto qualche minuto lo facciamo veramente però vi invitiamo a seguire doppio passo in chiusura del nostro programma chiusura che arriva anche con il sondaggio Instagram il 60% di voi dice che Ravenna vincerà il derby con l'Andrea Costa Imola e chiusura che è anche quella con il vincitore del nostro concorso Il vincitore è Andrea Babini che ha già vinto tante volte si vede che il premio gli piace proprio tanto le risposte ve le dico subito erano Gianluigi Galetti la domanda numero due aveva come risposta sette punti e infine il giocatore era Angelo Baiguera Assolutamente sì ovviamente bravo Andrea che hai indovinato io Francesca saluto e ringrazio tantissimo Dendi Liegro di essere tornato a Forlì ed essere stato subito nostro ospite grazie Dendi grazie grazie Eulio Trovato che ci ha ovviamente parlato in un momento delicato soprattutto facendo chiarezza su tante situazioni a beneficio dei tifosi grazie Eulio grazie a voi e ringraziamo ovviamente tutti voi a casa soprattutto io ringrazio te grazie Enrico e grazie a voi per averci seguito ci vediamo adesso subito su Facebook per la diretta e soprattutto con Panorama Basket martedì prossimo e vediamo adesso una speciale clip dedicata al derby in Canestri e Musica buona grazie a tutti 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 grazie a tutti